vedere come si fa il gelato, questo è importante allora zio, cosa stai facendo? stai facendo vaniglia crema di vaniglia crema di vaniglia cosa faremo? stanno bene rinforzo un'altra volta un'altra cosa un'altra volta un'altra volta un'altra volta e panna e panna non lo faccio? non lo faccio? no, è normale che in spagnolo lecce huevo e azucar huevo e azucar lecce, huevo e azucar panna di vaniglia mamma mia che gelato non lo faccio? non lo faccio? non lo faccio non lo faccio? non lo faccio?